Musica Vicinanza del Vescovo Alberto Tanasini alla Diocesi in queste giornate di isolamento. L'invito è a vivere la Quaresima come tempo di ricerca, pensando a quanto ci manchi l'incontro con l'Eucarestia. Un cuore fiducioso permette l'accompagnamento. Il tema del percorso di Quaresima, suggerito dalla Caritas alla Diocesi, per la prima domenica ha proposto l'impegno della condivisione. Si è conclusa la visita pastorale alle comunità di Chiavari, Levi e Camposasco con la messa a ribasso. L'invito finale è a non essere spettatori ma annunciatori della parola. Nel corso della visita pastorale c'è stato spazio per un momento di riflessione dedicato ai componenti dei consigli pastorali, un'occasione per riflettere sulla corresponsabilità dei laici nella vita delle comunità. L'affetto filiale per la Chiesa del Beato Rosmini al centro della Festa della Cella, celebrata anche a Chiavari nella Casa delle Rosminiane di Piazza Torriglia. Musica Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della Diocesi di Chiavari. È stato un inizio di Quaresima senza dubbio particolare quello che la nostra Diocesi e tutte le Diocesi della Regione Ecclesiastica Ligure hanno vissuto quest'anno dopo la sospensione delle celebrazioni liturgiche che è stata decisa dai Vescovi Liguri a seguito dell'ordinanza emessa dalla Regione Liguria con il propagarsi del coronavirus anche nella nostra regione. E dunque con ogni probabilità le ceneri saranno celebrate la prossima settimana. Monsignor Alberto Tanasini ha voluto comunque non far mancare la propria vicinanza ai fedeli della nostra Diocesi. L'ha fatto con un messaggio nel quale esorta a riscoprire proprio in questa situazione quanto manchi Gesù e Eucaristia ai fedeli della nostra Diocesi. Allora ascoltiamo le parole del Vescovo in questo messaggio. Carissimi, ho ritenuto mio dovere rivolgermi a voi in questo singolare inizio di Quaresima, segnato da quello che è stato necessario intervento a cautela della nostra salute e che ha portato a sospendere le celebrazioni liturgiche. Vi assicuro che è stata la decisione più sofferta tra quelle che abbiamo dovuto prendere in questa circostanza. E penso che per molti di voi sia stato anche un motivo di rammarico, se non di vera e propria profonda sofferenza. Questo testimonia che in realtà non pochi ci tengono all'incontro quotidiano con il Signore. L'incontro anche quotidiano, non solo festivo. E questo è motivo di consolazione. Vorrei richiamare quello che i Vescovi dicono nel loro comunicato. L'invito a iniziare questa Quaresima con ancora più forza di interiorità. La situazione di difficoltà in cui ci troviamo diventa un invito austero alla conversione. Diventa un invito forte alla preghiera, alla meditazione, all'ascolto della parola di Dio. Ecco, facciamo in modo che proprio questi eventi ci scuotano, ci scuotano spiritualmente. Ci aiutino ad affrontare le situazioni con serenità, con serenità interiore. Fiduciosi della provvidenza, fiduciosi dell'amore del Padre. Nello stesso tempo convinti, e questo lo sapete, è il cuore del cammino peritenziale della Quaresima, convinti di ritornare alla veste candida del nostro battesimo. Il nostro battesimo ha bisogno di essere alimentato. La nostra condizione, che a volte ci allontana dall'ideale del Vangelo, dal splendore della grazia, sia per noi un richiamo. Vi invito a prendere delle decisioni, delle decisioni di vita, di vita nuova. Ecco, non aggiungo altro. Teniamo conto, appunto, che a volte il Signore si serve degli aventi anche per farci riflettere, per farci prendere atto che le nostre presunzioni crollano così miseramente di fronte agli eventi che non siamo in grado di governare bene del tutto. Si parlano della nostra fragilità. Con l'imposizione delle cenere che faremo il 2, il lunedì 2, almeno lo spero, ripeteremo, ricordati che sei polvere, e in polvere tornerai. Ricordati che sei fragile, ricordati che non sei autosufficiente, ricordati che la tua vita va, da una parte, vissuta nell'umiltà, e dall'altra però sostenuta dalla speranza. E la speranza sia, non è semplicemente un desiderio, la speranza sia la virtù di chi sa fidarsi di Dio, sa di essere amato dal Signore. Questa polvere, questa povera polvere, è amata infinitamente. Vale il sangue di Cristo. Ecco quanto valiamo questa polvere, se ci riconosciamo nella nostra fragilità e nella nostra debolezza, ma anche nella forza che ci viene dal Signore. Siano questi i tratti che segnino la nostra Quaresima, tutta la nostra Quaresima, non solo il momento dell'emergenza forte. sia un cammino particolare quest'anno, il cammino quaresimale. Vi auguro una buona Quaresima. Telepace ogni giorno propone la Santa Messa in diretta dal Seminario di Chiavari alle 9.30 e alle 17. Domenica, prima domenica del tempo di Quaresima, la Santa Messa andrà in onda in diretta alle 10 dal Seminario di Genova e sarà preseduta dal Cardinale Angelo Bagnasco. La potrete seguire al canale 15 di Telepace e al canale 515 in HD. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, la Santa Messa in diretta dal Seminario di Chiavari sarà preseduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini. E Caritas Diocesana ha proposto anche per questo tempo di Quaresima un percorso di riflessione a tutte le parrocchie e alle comunità della nostra Diocesi. Un cuore fiducioso permette l'accompagnamento. Questo è il tema del percorso di Quaresima che sarà declinato nelle 5 prossime domeniche di questo tempo forte in preparazione alla Pasqua. Per la prima domenica è suggerito l'impegno alla condivisione. Vediamo. Pasqua 2020, un cammino che è iniziato con il mercoledì delle Ceneri. Caritas Diocesana propone un percorso di riflessione sul tema Un cuore fiducioso permette l'accompagnamento. Come si colloca, Don Enrico, questo tema che avete scelto nell'ambito di un percorso di riflessione più ampio che Caritas sta suggerendo alla nostra Diocesi? E' proprio quello di poter aiutare le nostre comunità e anche il percorso del fedele di poter cogliere dentro di sé un po' l'aspetto evangelico della Carità. Quindi è capace proprio di dare questa visuale un po' nuova, questa luminosità. Anche in un tempo oggi è così un po' angoscioso, un po' preoccupato. Mi pare che allora il cammino della Quaresima è un cammino di luce, è un cammino che vuole provocare vita dentro di noi. Quindi è un cammino interiore di rinnovamento. Il tema che abbiamo scelto è un cuore fiducioso che permette l'accompagnamento perché tanto riprende un tema che è caro al Papa Francesco. In questi anni ci ha invitato a poter vedere il povero, a stare con il povero, a saper sostare con il povero. E quest'anno ci invita ad accompagnarci con il povero, cioè fare cammino insieme. E abbiamo preso un po' uno spunto anche dal messaggio che il Papa ha fatto per questa Quaresima, dove ci dice guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente da Lui. Quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella Sua misericordia che ti libera. Contempla il Suo sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare da esso. È un dialogo cuore a cuore, da amico ad amico. Ecco allora il percorso dell'accompagnamento e questo dialogo di cuore a cuore, amico a amico. E questo verrà poi via via sviluppato nelle cinque domeniche del percorso quaresimale. Stiamo per celebrare la prima domenica di Quaresima. Caritas di Ocesana ha scelto come tema le tentazioni aperti al nuovo. Come declinate la riflessione di questa domenica? È davvero, siamo sospinti dallo spirito. La tentazione è un luogo della lotta e poi c'è un luogo della vita. Il Vangelo dice che lo spirito sospinge Gesù. Cioè davvero mette dentro la lotta, cioè l'apertura alla vita. E anche per noi allora questo è un tempo dove ci vogliamo lasciare sospingere dallo spirito, muovere dallo spirito. Mi pare importante cogliere alcune nostre tentazioni che abbiamo, quello di sostituire la vita con il possedere le cose. E così pure la condivisione con il povero superando le esclusioni per essere coraggiosi nella vita. Ecco, il Signore ci invita proprio a questo, ad aprirci a questo nuovo che sospinge il nostro vivere. Ora facciamo un passo indietro e torniamo alla visita pastorale che Monsignor Alberto Tanasini ha concluso nelle comunità di Chiavari, Leivi e Camposasco. La celebrazione conclusiva si è svolta nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe dei Piani di Rì. Tanti i fedeli delle comunità che hanno preso parte alla liturgia che è stata animata dal coro delle diverse comunità parrocchiali di questo ambito di comunione pastorale. Vediamo. A conclusione della visita pastorale, Monsignor Tanasini ha invitato i laici ad assumersi le proprie responsabilità. Non rimanere spettatori, ma essere annunciatori attivi della parola di Dio. Una sfida da accettare anche nei momenti di difficoltà, ha precisato il Vescovo di Cesano, alle comunità di Chiavari, Leivi e Camposasco, riunite nella chiesa di San Giuseppe dei Piani di Rì. Proprio nel momento della difficoltà, nel momento in cui ci sembra di diminuire sempre, di essere più distanti dalla vita cristiana, proprio in quel momento siamo chiamati a rinnovare la nostra vita, a prendere il Vangelo sul serio. Vogliamo davvero essere in grado di annunciare con nuova forza il Vangelo, come la Chiesa ci chiede ripetutamente, insistentemente. L'invito del Vescovo è quello ad un impegno dei laici all'interno di un cammino comunità di unità, al di fuori dei confini della parrocchia ed esteso all'ambito. La celebrazione di oggi è stata molto importante per la nostra parrocchia, in quanto, e questo dobbiamo ringraziare Sua Eccellenza al Vescovo Alberto, perché ha dato la possibilità a noi di avere tutte le parrocchie di Chiavari, Leivi e Camposasco riunite insieme per fare una giornata veramente di comunità ed è stato un bel regalo, veramente, quello a cui non avremmo mai sperato di partecipare, invece si è avverato un po' senza tanto preavviso, ma forse per questo ancora più intenso e più emozionante. E la giornata come si concluderà adesso? La giornata si concluderà nel salone sotto la chiesa, perché ci sarà ancora un momento conviviale, nel senso che ci sarà qualcosa, un rinfresco, un po' di cibo, un po' di bevande, ma la cosa fondamentale che per conto mio sarà la base di questa prosecuzione è il fatto che avremo l'occasione di stare ancora insieme con tanta gente che non abbiamo occasione spesso di incontrare e quindi questo penso che sarà la giusta conclusione della giornata. La messa di oggi è stata animata da un gruppo di cori che per la prima volta si sono uniti nell'occasione dell'unione dell'ambito. Ci sono tutti i cori, la rappresentanza di tutti i cori di Chiavari, di Camposasco e di Leivi. Ci siamo, abbiamo provato insieme e l'esperienza è stata bellissima perché per la prima volta ci siamo trovati a confrontarci con canti che magari qualcuno lo faceva in un modo diverso, un altro in un altro, però la cosa bella è stata che ci siamo aperti, uniti, ascoltati, ha trovato delle soluzioni e questo è stata un'apertura meravigliosa per noi. Infatti vogliamo continuare e speriamo di avere altre occasioni. Ringrazio tutti i ragazzi dei cori, tutti i direttori dei cori che si sono impegnati, abbiamo fatto un bellissimo gruppo e c'è stata anche una bellissima amicizia che si sta consolidando. La consegna è quella che questa visita pastorale sia di stimolo davvero per continuare, ma direi anche proprio per puntare su questo cammino di unità, partendoci da stimarci insieme e poter avviare anche dei percorsi che possano far crescere l'unità delle comunità cristiane su questo territorio. E com'è possibile avere dei laici non rassegnati ma stimolati, che era uno degli inviti che ci sono stati fatti? Beh, innanzitutto partendo dall'ascoltare insieme il Vangelo, dal celebrare l'Eucaristia, dal avviare progetti di carità e insieme sostenerci e sempre di più se insieme pastori e popolo potremo camminare con gioia. E nel corso della visita pastorale c'è stato spazio anche per un incontro riservato ai componenti dei consigli pastorali delle varie comunità parrocchiali che compongono l'ambito di Chiavari, Levi e Camposasco. Un momento di riflessione sul servizio svolto dai laici in corresponsabilità con i sacerdoti. Qual è il significato degli incontri del Consiglio Pastore d'Ambito? Dunque il significato è quello di mettere insieme le varie esperienze delle parrocchie un po' in tutti i settori, ora viene in mente ad esempio il settore caritativo dove spesso le attività sono tante, particolari magari e non sempre messe in comune o comunque conosciute da tutti. Quindi è sempre sicuramente una ricchezza potersi confrontare su questi aspetti e poter mettere in comune anche esperienze di un certo tipo per arrivare poi magari anche a progettare insieme qualcosa di nuovo. Quindi diciamo che con l'ambito siamo all'inizio di un cammino. Dalle attività svolte comunque nell'ambito e anche dai consigli pastorali si sono a trovare delle energie, delle idee poi da portare nella propria parrocchia? Ma senz'altro, come dicevo prima ad esempio mi viene in mente come recentemente in un incontro che c'è stato noi di altre parrocchie, io di Rupinaro non sapevamo che esistono delle attività utili che vengono svolte in alcune parrocchie per quanto riguarda ad esempio la ricerca di badanti, di assistenti familiari che è una cosa che avviene molto spesso, che è una necessità nel nostro territorio reale tenendo conto dell'età media delle persone e nessuno di noi è racconoscenza del fatto che una parrocchia in questo senso fa un servizio. Molto spesso il Vescovo di Chiamo un po' chiede ai laici di essere parte attiva, parte proprio attiva della comunità, della Chiesa. In questo caso diciamo il Consiglio Pastore d'Ambito può essere una cosa che va in questa direzione? Sicuramente in cammino, ecco, proprio perché essendo partiti adesso almeno per me mi rendo conto che significa fare un percorso anche personale all'interno dell'ambito. Il Consiglio Pastore d'Ambito è un po' più di un annetto che è stato costituito diciamo come unione delle parrocchie di Chiavari, Levi e Camposasco. Come mai la decisione di prenderne parte? La decisione di prenderne parte mi ha coinvolto ovviamente in primis Don Pio, il mio parroco, tutto eccetera, poi facendo già parte della vita attiva diciamo della parrocchia, essendo anche una parrocchia insomma piccolina e tutto, quindi è stata una decisione abbastanza automatica e ho accettato di buon grado, ecco, mi ha fatto piacere. Per chi al di fuori magari non sa bene i meccanismi, quante volte vedete, di cosa parlate? L'ambito diciamo ha lo scopo di mettere un po' insieme una linea comune delle varie parrocchie appunto del comune di Chiavari e di Levi. Abbiamo cominciato con qualche riunione diciamo trimestrale, possiamo dire, poi a seconda anche del periodo di quello che si cerca di organizzare, in questo caso la visita pastorale del Vescovo, anche un po' più frequenti, ecco, anche mensili, ecco, diciamo non c'è una cadenza fissa, però 4-5 volte l'anno si fa sicuramente. Nell'ambito comunque ci sono in realtà parrocchiali molto diverse, è magari difficile avere una linea comune a volte o magari dalle differenze si riesce anche un po' ad arricchirsi, ad avere un po' un punto di vista differente? Eh sì, sicuramente, al fine sono realtà molto diverse e la cosa positiva è stata proprio che si vive, mi parlano personalmente, nella propria parrocchia credendo che il mondo magari giri così, la nostra ad esempio è una parrocchia molto piccola dove tutti fanno un po' di tutto e si arriva in contatto con altre realtà come quelle cittadine organizzate magari diversamente, però dalle varie cose sono sempre spunti positivi, ecco, abbiamo tratto, dalle diversità quindi tutto sommato si cresce, si cresce tutti, speriamo anche noi nel piccolo di poter dare qualcosa a quelle grandi, ecco. Da quanto tempo fa parte del Consiglio Pastorale? Più di 20 anni. E come mai ha deciso di farne parte e continua a farne parte? Perché con Don Franco mi ci trovo bene. E' importante il Consiglio Pastorale un po' per, diciamo, fare attività in padrona? Io penso per un prete molto importante, perché se non c'è il Consiglio Pastorale cosa può fare un prete? Diciamo che è un po' la parte laica della Chiesa che si dà da fare per la comunità. E' logico, ci mancherebbe. Il Consiglio Pastorale poi, per chi magari segue questa intervista e non è maestro di un Consiglio Pastorale, ci spiega cosa si fa in un Consiglio Pastorale? Eh, se tiene un po' i bilanci, si interessano in particolare dei lavori. L'importante è i lavori, perché se non c'è gente che gestisce un po' i lavori, addio, eh. Da quanto tempo fa parte il Consiglio Pastorale? Ma direi almeno da una dozzina d'anni. Come mai ha deciso di entrare a farne parte? Ma in realtà mi è stato chiesto dal paroco di San Giovanni di allora che era Don Enrico Bacile Lupo e poi sono rimasto nel Consiglio anche con Don Paolo. E ho accolto con gioia questo invito, proprio perché mi era stato chiesto di fare un po' da raccordo con la realtà del Catechismo e, diciamo, un po' tutte le realtà che coinvolgono la nostra parrocchia. Quanto è importante il Consiglio Pastorale, soprattutto in una parrocchia grande come quella di San Giovanni? Ma direi che è molto importante perché credo che sia una possibilità privilegiata per poter pensare al bene della nostra comunità insieme al parroco, insieme al viceparroco, in questo caso anche insieme al diacono che ci accompagna nel cammino di quest'anno. All'interno del Consiglio Pastorale, nelle riunioni che vi trovate, qual è una delle qualità importanti o delle cose più importanti? Ma credo che sicuramente uno degli aspetti più interessanti sia l'eterogeneità, nel senso che ci sono età diverse, anche proprio storie diverse e mi piace molto pensare da quest'anno anche proprio realtà di etnia diversa, nel senso che proprio quest'anno il nostro parrocco ha avuto, secondo me, l'ottima intuizione di invitare degli stranieri che fanno parte della nostra comunità a far parte del Consiglio ed è una sottolineatura che forse tutto sommato non sarebbe neanche il caso di fare, sarebbe bello che non fosse neanche necessario fare, però mi piace farla perché la trovo un valore aggiunto notevole. Ora restiamo a Chiava, rimandiamo nella Casa delle Suore Rosminiane di Piazza Torriglia. Qui il 20 febbraio si è celebrata la Festa della Cella, la memoria liturgica del giorno in cui il beato Antonio Rosmini salì al Monte Calvario a Domodossola e da qui iniziò la sua esperienza ascetica. Monsignor Alberto Tanasini ha celebrato l'Eucarestia nella Casa Rosmini proprio in questa occasione. Il 20 febbraio del 1828, quell'anno mercoledì delle Ceneri, il beato Antonio Rosmini giungeva al Sacro Monte Calvario di Domodossola dove intendeva comprendere meglio e dare inizio a ciò che Dio voleva da lui. In quella quaresima scrisse le Costituzioni dell'Istituto della Carità e avviò quell'esperienza religiosa che divenne l'Istituto della Carità dei Padri Rosminiani e successivamente le Suore della Provvidenza Rosminiane. La comunità chiavarese celebra ogni anno la festa con una settimana di appuntamenti condivisi con amici e collaboratori. Ogni mattina, durante la celebrazione delle Lodi, le Suore hanno proposto la lettura di alcuni testi rosminiani. Sempre nel corso della settimana c'è stato un incontro di preghiera con video e canti nella casa della Rosminiane di Piazza Torriglia. La comunità ha poi ricevuto la visita di Monsignor Alberto Tanasini che ha celebrato l'Eucarestia proponendo una riflessione sulla Chiesa di cui Rosmini tratta nelle massime di perfezione cristiana, testo fondamentale della sua ascetica. La Chiesa è per Rosmini l'oggetto degli affetti, ha spiegato Monsignor Tanasini, pensieri, desideri e azioni, perché è il mezzo sicuro per dare gloria a Dio sulla Terra. Per questo Egli si adopera in tutti i modi, mettendo in gioco se stesso, le sue capacità intellettuali, le sue competenze di scrittore, persino le sue risorse economiche per il bene della Chiesa, fino a desiderare di consumare le sue forze e versare il suo sangue per lei. Tutto questo però senza presumere di sé, ma solo aderendo con generosità ai segni della volontà di Dio. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con noi Chiesa, al nostro viaggio alla scoperta della vita della Diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.